Io ho due figli che sono cresciuti in modo tradizionale, fino a che io non ho acquisito alcune conoscenze che mi hanno cambiato il modo di affrontare l'alimentazione. Però non deve credere che siccome ho cambiato il mio modo di vedere l'alimentazione, questo abbia avuto un conseguente e immediato riflesso sui miei figli, ognuno a casa nostra ha fatto le proprie valutazioni e non c'è stata nessuna imposizione. Io posso dire semplicemente che non conoscevo tante cose, lei sa benissimo che si possono avere delle motivazioni di tipo etico, di tipo ambientale e di tipo nutrizionale. Per quanto riguarda le motivazioni di tipo etico, le devo dire che io ho avuto, se ci ripenso, tantissime informazioni in questo senso. Non le elenco, ma è stato solo un certo momento che le ho unite insieme e che ho fatto il collegamento. Informazioni ambientali non ne avevo mai avute e quindi non ero in grado di prendere delle decisioni su questo aspetto. Per quanto riguarda poi le conoscenze di tipo nutrizionale, qui c'è quasi una situazione, almeno per me, paradossale. Io ho fatto medicina e devo dire che non ho fatto nessun esame di nutrizione. E se ricordo e ripenso al mio libro di patologia speciale medica, penso all'elenco di ogni patologia, quindi la definizione, l'anatomia patologica, la diagnosi, la diagnosi differenziale, la terapia. Ecco, in questi libri mancava sempre la terapia nutrizionale, cioè la nutrizione è come se non fosse presente. Poi io comunque in ogni caso ho avuto sempre una passione per la nutrizione, forse anche in virtù della specializzazione che è pediatria, che volente o non volente ti porta in questa direzione. Però l'ho fatto sempre quasi in modo personale, artigianale, ed è sorprendente che abbia fatto l'intera specializzazione in scienza dell'alimentazione senza mai avere un'ora di informazione sulle diete vegetariane e vegane, che semplicemente non sono state considerate per pregiudizio, perché sono diete considerate inadeguate. E quindi io sono arrivato alla fine del mio percorso quasi da solo, quasi aprendo una finestra dopo l'altra, quando finalmente ho messo insieme tutte le cose e ho preso la decisione, finalmente ho visto chiaro, e ho preso la decisione di non mangiare più animali. Questo naturalmente ha permesso a me e anche alla mia famiglia di accedere a tutta una serie di informazioni, e poi ognuno indipendentemente ha ritenuto di fare questa stessa scelta in tempi successivi, ma senza forzature, come dovrebbe essere in ogni caso. Ho fatto anche un'altra specializzazione analoga a scienza dell'alimentazione, che è igiene e medicina preventiva, dove abbiamo affrontato le caratteristiche epidemiologiche e gli interventi sulle malattie di importanza sociale, sia di tipo infettivo che di tipo non infettivo. E quindi qui si è parlato di diabete, di malattie cronico-degenerative, eccetera. Anche qui non c'è stata una, non dico una lezione, ma nemmeno una parola, sull'utilità e sull'importanza e sulla forza e sulla potenza di suggerire alla popolazione un cambio di direzione verso una dieta di tipo vegetale e integrale, che sappiamo perfettamente oggi, sulla base dell'evidenza scientifica, quanto sia efficace nel prevenire, ma addirittura a volte anche nell'arrestare e persino a volte nell'invertire il percorso delle malattie cronico-degenerative. Grazie a tutti.